William ha deciso di fare un bellissimo regalo alla sua Kate proprio dopo la diagnosi di cancro sono tutti in lacrime per la scelta del principe un dolce regalo che il principe William ha deciso di portare a casa per la sua amata Kate Middleton proprio mentre lei è alle prese con le cure contro il cancro ecco di cosa si tratta la principessa Kate Middleton sta vivendo un momento durissimo dopo la diagnosi di tumore ma sicuramente al suo fianco ha tanto sostegno e amore i figli i genitori le amiche care e il marito sono sempre con lei pronti a sostenerla in questa battaglia contro il cancro il principe William in particolare ha scelto di dare tutto il suo appoggio alla dorata moglie per lei ha pensato ad un dolce regalo a pochi giorni dall'anniversario di nozze il regalo del principe William per Kate Middleton il principe William ha avuto un nuovo incarico ma non dimentica mai la sua consorte che sta affrontando la cura contro il cancro lo scorso lunedì 13 maggio è diventato colonnello in capo dell'aeronautica militare ha iniziato qui il suo primo giorno di lavoro insieme al padre re carlo che gli ha trasferito il titolo durante la cerimonia presso l'armi aviation center di middle wallop hampshire purtroppo la principessa del galles non ha potuto partecipare alla cerimonia perché attualmente è sottoposta a chemioterapia preventiva per il tumore il marito però ha deciso di portarle a casa dei regali e ovviamente ha pensato anche ai loro tre figli george charlotte e louis la famiglia è per william sempre al primo posto e nonostante la loro assenza all'importante evento ha pensato di sorprenderli con alcuni doni per il suo nuovo ruolo come riporta rebecca black di fedeli mail su x il principe ha preso una sciarpa scozzese a hack per la principessa di galles una sciarpa per sé e tre elicotteri di legno per i loro figli insomma la semplicità al primo posto ma soprattutto l'amore per il suoi cari diverse le clip che hanno mostrato il volo reale su un elicottero apache e l'incontro con i soldati del reggimento tuttavia kate middleton non ha avuto modo di assistere al momento tanto importante per il marito a causa delle cure contro il cancro nonostante sia affetto anche lui da un tumore re carlo ha potuto partecipare a diversi doveri pubblici tra questi l'evento durante il quale ha consegnato la nuova onorificenza militare al principe ha tramandato il titolo che deteneva dicendo alla folla che suo figlio è un ottimo pilota con l'orgoglio e l'amore nel cuore il principe william porta avanti la tradizione di famiglia